Articolo 603 Chiunque sottopore una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di assoggettamento, è punito con la reclusione da 5 a 15 anni. La pena può essere stesa fino a 20 anni in caso la vittima sia portatrice di minoranza fisica, psichica o sensoriale. Questo sarebbe il reato di plagio. Ti dice qualcosa? E infatti è la prima volta che lo applicano. E tu come lo sai, scusa? A un amico avvocato. Ah sì? Un amico o un'amichetta? Fatti miei. Così, pochia idea. Ma questo prebenti lo conosci di persona? Io. Ma non era quello della festa dell'unità? Sì. Il formigliere. Il mirmecologo. Ah, poi? A lui stesso, no? Ma secondo te se lo merita il carcere? Allora per me in carcere ci dovrebbe andare solo chi... chi dico io. Oppure non ci dovrebbe andare nessuno. Celle aperte e libri di tutti. Spero che non lo scrivi queste cose. Magari nemmeno le penso, dai. E il tuo amore, così puro, tutto il bene che mi muore... No, non ci dovrebbe andare.